Welcome to a new episode of Spongebob Cosmic Shake A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo e nuovo episodio Ho visto che le scorse serie di Spongebob vi sono piaciute molto E onestamente dopo il gioco di Stitch avevo voglia di staccarmi un po' dalla Disney E vi anticipo già che dopo che avremo fatto l'era glaciale Deciderò se proseguire con il terzo capitolo O staccarmi anche da quello e riprenderlo in un secondo momento per fare un altro titolo Ma ogni cosa a tempo debito Come per gli altri titoli dei giochi di Spongebob anche questo non lo conosco Se non che l'unica cosa che ho visto è che questo gioco è pieno dei meme di Spongebob È assurdo, è assurdo per quello che ho appena guardato La scelta della lingua, ci sono tutte le lingue disponibili al mondo Tranne l'italiano, c'è il giapponese C'è Spongebob in giapponese, in polacco e in portoghese Ma non c'è in italiano Com'è possibile? Perché questo... Ti giuro, giochiamo Spongebob in giapponese adesso Voglio sentire il doppiaggio giapponese Spongebob Spongebob Manca una gamba Allora Per quanto sia assurdo sentire il Spongebob in giapponese Lo rimetterò in inglese Incontra Patrick a casa sua Allora, devo dire che già il modello, i movimenti sono molto più fluidi rispetto a quello di Battle for Bikini Bottom Raid Rated Perché quello va bene, era un remake, giustamente questo è un gioco Totalmente nuovo Però le basi sono quelle Però non posso neanche combattere Ma se io vado di qua C'è la solita manina gigante che mi fermerà No, c'è un muro invisibile che mi rallenta i movimenti Sto rimuori di gomma ogni volta che cammina Spongebob comunque Da dove è uscita fuori signora Puff Oh Spongebob, che sorpresa Sbaglio che non posso insegnare alcune lecce di giovane Ti giuro non l'avevo mai sentita la voce della signora Puff in inglese Sembra un uomo che finge di essere una donna Ok signora Puff Dici che ci arrivo lì? Sì dai ci dovrei arrivare Sì ci sono io che vi controllo Ciao Va bene va bene va bene Andiamo a casa di Patrick Certo come no Trovo un modo per aggiungere Sandy al Tree Dome Mi accompagni tu? Beh più che dal traffico lì vedo un grosso e grande incidente Beh più che dal traffico lì vedo un grosso e grande incidente E ora Plankton dirà che è il suo Certo come no Certo come no Beh abbiamo risolto il nostro problema no? Come fare salta? Grazie Viva i tutorial quelli belli eh Ma in questo gioco non si fa botte? In questo gioco posso andare in acqua Ok va bene No 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 Non tu Non tu Questo giorno Questo giorno sarà per rilassare e inspirazione Non voglio essere distrutto sul mio precioso giorno Io lo spendo con l'amore della mia vita Mi stesso E la mia arte ovviamente Certo Vattene C'ha ragione comunque Fa vedere il dipinto Bello C'è qualcosa dietro casa? Gary Chi è quello? Ha ragione Non l'avevo mai visto quel cane Effettivamente è un bel po' che non vedo un nuovo episodio di Sponge Vabbè Nella mia testa ci sono ancora tutti quelli vecchi I classici diciamo Bello questo incidente Ora mi insegneranno come rompere quelle casse immagino Sandy? E la? Ma si dai Ma si dai Ma sembra così dorata Sandy Lei è più marroncina Con sti colori sembra quasi giallo-oro Ovvero ti insegno come fare a botte Va bene Allora ripulisci l'aria intorno al Tridon di Sandy Quindi con quadrato usiamo di nuovo le abilità con le bolle Come nel gioco precedente Però non ci sono combinazioni Progetto premio campione di box Ah Devo rompere mille casse Tutto qua? Ok Va bene Immagino che piano piano le sbloccheremo altre Great job Spongebob My yard is looking fine as far as a frog Thanks for your help And have fun with Patrick Si quando si sveglierà Da Signora Del vecchio Quello lì È colpa sua signore Scemo Progressi bene Una spugna Devo picchiare 25 persone? Davvero? Ma posso far Va bene Devo picchiarne 25 diverse O posso picchiare Posso picchiare la stessa O devo picchiare 25 diverse Immagino Certo Ah ma dio mio proprio Uno dietro l'altro Si sono schiantati Però scusami un attimo Fammi vedere i progressi Ah ci sono anche i costumi sbloccabili Con le monete dorate Ok E come li vedo i progressi Di quelle cose lì Oh Questo È il filtro per le fotografie Vivo vivo Vabbè picchiamo anche Sandy Già che ci siamo Io picchio tutti quanti Eh lo vedo Beh non è proprio un caso Tutto a posto qui Ti devo dare da mangiare Bimbi tutto a posto qui Il triplo coppino Dai sono a 13 Chi l'avrebbe mai detto Davvero? Davvero? Chi l'avrebbe mai immaginato? Oh wow Non ci sarei mai arrivato Senza di te gioco Ok Eh beh certo Progresso premio Sponginator Perché mi dai progressi di cose Che non capisco Vabbè Non importa Va bene così Io proseguo Continuo a menare Tutto quello che vedo Tutto quello che c'è Poi Il resto lo vediamo Aspetta che vada a disturbare anche lui Il tizio qua sopra invece Meme sponge bob intanto Allora posso dire che però Era più bello La manina che ti riportava indietro Piuttosto che il muro invisibile così Chissà quanti trofei ha questo gioco 44 trofei Oh ma ogni due secondi Ehi meme di sponge bob Già partiamo che questo gioco È basato sui meme E si capisce tantissimo Da ogni due secondi Che ti ferma Ne fa uno diverso Dei classici Vabbè vediamo qua Come Ma dai One hour later Come nel Nel film Il primo Che lui dice Non sono riuscito a dormire Per l'emozione Dei ma torna mia Ah, certo, come no? Magica di sopa magica, respirare la vita in i tuoi sogni. Dicono che con questo unico... ...bubble maker... thingy... ... puoi diventare chi vuoi essere, ricevere ciò che vuoi avere, solo... ...bubblei il tuo sogno all'amore. Non che sia mai funzionato per me. Due ore dopo. Mi piacere... No, mi piacere... ...mi piacere... ...mi piacere... Ok, il mio primo piacere è di parte del mio migliore amore, il mio amore di balone. Mi piacere di Patrick avere la più grande, più grande, più grande avventura della vita. ... 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